Ciao a tutti dal salutatore, eccomi con il grande Ricky Tognazzi, io ti stimo tantissimo e ti chiedo un saluto a tutti i tuoi fami. Sì, saluto a te, grazie a tutti. Lo so, ma io li faccio fare ai grandi come a te. Io saluto a te, e tu risaluti. E io risaluto voi per il grande Ricky Tognazzi, grande. Saluto, cioè, i suoi saluti. Grazie, siamo grandi, ciao. Arrivederci. Grazie. Io conosco tutti i giornali, eh. Eh? Ah.